E' il professor Franco Tritta? E' chi parla? E' il dottor Nicolai? Si Nicolai E' lei il professor Franco Tritta? Si, ma io voglio sapere chi parla Previatero Dai bene? Ha capito? Si Pratempiamo le ultime volontà del presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro Mi sento? No, se puoi ripetere il corso di gioco Non posso ripetere Allora, lei deve comunicare alla famiglia Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro In via Caetani Via? Caetani Lì c'è una Renault 4 rossa I primi numeri di targa sono N5 Devo telefonarmi io? No, dovrebbe andare personalmente E non posso? Non può? Dovrebbe per forza Cortesia, no Mi dispiace ma Cioè, se lei telefona Non verrebbe meno L'adempimento delle richieste Che c'era Che l'ha fatta espressamente Farvi con mio padre La prego Va bene Prantala Prantala Che mi dice? Guardi, lei dovrebbe andare Dalla famiglia dell'onorevole Aldo Moro Puede andare il suo figlio Comunque telefonare Si Basta che lo facciano Il messaggio ce l'ha già il suo figlio E non posso andare io? Certamente Perché lo faccia Con urgenza Perché le volontà L'ultima volontà L'onorevole è questa Cioè, di comunicare alla famiglia Perché la famiglia Doveva riavere il suo corpo Va bene? A riuscire Ok Ok